Non aver paura, applaudiamo, applaudiamo, grazie, grazie a te e a tutti quanti, basta essere scritto, un minimo di serietà, com'è? Ci chiamiamo Black Pope, veniamo da Trieste, downtown, vicino a Trieste, uptown, lower east side, basta, basta, aberto, se no ti caccio. E' il nostro primo concerto, e approfitto per presentare i membri del gruppo, io sono Nebilo, da dietro c'è, basta, andiamo qui un po', da dietro c'è Bertha il batterista, basta, basta, non si manda la testa, e qui invece l'applaudita è pure per Roby che, non solo è il suo primo concerto insieme a noi, ma dopo che ne abbiamo cacciato come batterista, è trovato come bassista, Ed è il suo primo concerto, non è bassista, in assoluto, quello che vedrete oggi non lo vedrete mai più, anche perché questo è il nostro primo e unico concerto, a Ricky va via, per favore. Ha 32 anni? No. Poi vogliamo anche salutare gli altri membri del gruppo che hanno suonato con noi nel corso degli anni e che non vogliono più, non li nominiamo perché non vogliono, ma uno fra tutti a cui abbiamo dedicato una canzone che è questa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.